Il karate è nato in Giappone però adesso è distribuito a livello mondiale non è più solo una questione giapponese possiamo crescere e far crescere il karate tutti insieme anche anche fuori dal Giappone cerchiamo di avere degli ottimi rapporti interpersonali in Italia e anche con le altre nazioni interessate in questo progetto ci saranno delle ottime relazioni e potremo crescere tutti insieme all'interno di questa organizzazione e dobbiamo pensare molto ai bambini, ai giovani e ai bambini crescendo quindi dobbiamo pensare che una buona relazione di karate sia per i bambini e soprattutto i rapporti interpersonali devono essere ottimi soprattutto per i bambini e per i giovani grazie 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 grazie